Si è riscontrato così questi problemi riguardo al codice errore 81 sia su League of Legends o Valorant in generale direttamente su il client di Riot quindi Riot client e hai questo problema in questo caso è possibile riavviare il client e poi aprirlo di nuovo oppure direttamente riavviare il sistema in questo caso andiamo un attimo su gestione attività tasto destro sul logo di start vai su gestione attività vai su processi Riot client 32 bit scendiamo fino a giù fino a trovare così il Riot client ed eccolo qua clicca qua sopra tasto destro sopra e vai ai dettagli ed eccolo qua Riot client.exe in questo caso imposta priorità metti alta una volta fatto quello che ti resta da fare chiudere così questo servizio termine attività una volta chiuso il servizio andiamo un attimo sui servizi qua sopra scrivi servizi scendi fine giù fino a trovare il VGC ovviamente se non hai questo servizio VGC devi attivare il security boot oppure attivare anche il TPM 2.0 è lì che succede così questo errore per colpa dell'avvio protetto che non è attivo e il TPM 2.0 quindi in passato avevo realizzato una guida su come attivare così il security boot e il TPM 2.0 su Valorant riavvia il sistema quando vai ad accentri così il computer ti escono dei tasti da premere qua sotto quindi a me mi diceva di premere F12 o canci schiaccio uno di questi due tasti lì sotto ed entro così nel BIOS della mia scheda madre una volta fatto in alto a destra sulla mia scheda madre ho scritto security boot trovo così il security boot e lo abilito e sulla modalità security boot ho messo custom una volta fatto per salvare tutto devi premere il tasto F10 poi per il TPM 2.0 basta andare su settings vai su la sicurezza vai su trusted computing ed eccolo qua TPM state e qui metti abilità e una volta configurato tutto fai F10 e salvi tutta la configurazione qui il tipo di avvio è manuale ho messo manuale faccio avvia adesso il servizio WGC è in esecuzione una volta fatto andiamo così sulle nostre reti impostazioni rete internet impostazioni di rete avanzate ripristino della rete ripristina la tua rete e riavvia il computer e poi devi rimettere così la password e tutto il resto però hai ripristinato la tua rete se non dovesse bastare torniamo di nuovo su impostazioni rete internet impostazioni di rete avanzate vai sulla tua rete altra opzione scheda quindi modifica TCP PV4 ottieni indirizzo server DNS automaticamente e fai ok e avvia il riot riot client eseguilo come amministratore quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto il video se questo video ti è stato godissimo iscriviti lascia like ti consiglio di guardare la guida che ti ho fatto vedere in questo video come attivare TPM e l'avvio protetto quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao